Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel nostro canale, io sono il boss e partiamo subito, 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 subito con Rotor Division 1 come potete vedere, o avete visto un pillino prima, lo vedremo magari dopo ho cambiato un bel po' di giocatori, sono riuscito a fare un pack opening per i cavoli mei diciamo non l'ho registrato perché non ho trovato granché e soprattutto non ho trovato diciamo giocatori che potessero servirci a noi però sono riuscito a trovare gente come Manolas, come Bains che ci ha fatto fare un bel po' di crediti sono riuscito a prendere gente come per esempio appunto Umes, Piszczek, Boateng vediamo come ci troviamo con questi giocatori, per ora penso che la divisione di Cipan benissimo cominciamo con questa squadra che è onesta, niente di straordinario Isheraui, Contrao, vediamo come va ragazzi ovviamente purtroppo per ora non posso prendermi i giocatori diciamo super costosi perché per esempio Umes l'ho pagata di circa 48.000 crediti avendo avuto la fortuna di appunto trovare giocatori meno male, trovando giocatori abbastanza decenti che sono riuscito a vedere, sono riuscito a prendere anche Umes con 48.000 crediti mentre invece giocatori come ovviamente Neuer, Rivali, Alaba, Boateng purtroppo almeno per ora sarà dura speriamo che adesso vedrò se fare un pack opening magari che potrei anche registrare dipende, vediamo come va mamma mia ragazzi cosa ha fatto Umes è fortissimo, anticipa, fa tutto da solo, bravissimo ma quanto te la sei allungata però cretino ma perché me la ricordavo un pelino più semplice, la divisione dei 10 magari abbiamo trovato comunque un avversario che se la cava bene, bene, benino insomma io non sono un mostro su FIFA eh me la cavicchio mi manca come infortunato, fantastico yes yes no, merda ma troppo centrale cazzo mas mmm ma 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 mem ma ma Segnavo così mi vergognavo io personalmente Ho fatto una cazzata Psicotico? Beh ok Ho fatto una cagata ragazzi Puttana neva Esci 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 Va bene lo stesso Ma che piede hai Ramos? Dai sei veloce cazzo Corri Dai Ma dai Ma no non è possibile Ma dai Puttana neva Beh Cade di colpo così? Non mi ha contato la partita Non so cosa sia successo È caduta la linea Cioè è caduta la connessione Non ho mai mai Va tutto Ok Alla prossima partita Vediamo se troviamo l'avversario Infatti Intanto Fatevi i complimenti che mi sono arrivate le magliette nuove Adesso magari un po' alla volta ve le faccio vedere Non ne ho moltissime Però Soddisfazione Avere le magliette così Io sono pronto se tu sei pronto Una serie A Buona vettura De Jongstroth Mai Tour Becardi Kirchner Una bella serie A La difesa così così Ma Molto bella È finito di trattenermi la maglia Puttana neva Cazzo Quanta forte ho tirato però Vabbè Dobbiamo tirare il calcio d'angolo del centro Vabbè Peccato Ai Vediamo se prendono la traversa come l'altra volta Porca Eva che sta ancora Tremando Yes Si Si cazzo Grande gol di Boateng No in realtà fa un po' schifo Quasi raso terra così Però è venuto Quella stava danzato con la barriera Guarda Dov'è passata Ma Che culo Che culo Che culo Comunque ottimo Che culo Che culo Che culo Che culo Non tiro a giro Rientrando Mi è andato il culo a rimpallo Puttana Eva Eh vabbè Oh E cazzo In intanto Qua lo devo tirare a giro Infatti ho tirato a giro Che mi stava tirando così Non so perché Non so perché Rimpallo il culo Ho detto Tira una cannonata Finita È finita Buttavia Non finisce Non finisce Non fischia Però Noi ci vediamo Adesso Giovedì Con il prossimo episodio Purtroppo Mi piace La nostra pagina facebook Iscrivetevi al canale Ho detto tutto Ciao ragazzi